signori buongiorno buona pasqua e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale alla fine di marzo abbiamo parlato delle linee narrative orizzontali e poi abbiamo visto come integrarle nella quest collettiva che stiamo scrivendo assieme in questo nuovo video vedremo di parlare delle linee narrative verticali per poi anche in questo caso vedere come integrarle all'interno della nostra quest quindi mentre voi siete lì a strafogarvi di cioccolato andiamo a chiudere l'argomento cominciamo anche in questo caso dando una definizione di che cosa sono le linee narrative verticali le linee narrative verticali sono definite dall'attuale complicazione che i personaggi stanno affrontando potrebbe trattarsi di un antagonista ma non è necessario qualunque ostacolo debbano superare potrebbe avere la sua linea narrativa in pratica le linee narrative verticali riguardano quello che i personaggi stanno facendo in questo specifico momento della storia e per questo che nello scorso video le ho definite linee narrative di quest per differenziarle dalle linee narrative orizzontali che sono linee narrative di saga o volendo linee narrative di campagna fate attenzione è però che non è la durata a distinguere una linea narrativa orizzontale da una verticale ma è l'impatto che gli eventi all'interno di quell'arco narrativo avranno sulla storia in generale le linee narrative verticali sono per loro natura episodiche questo vuol dire che hanno un inizio e una fine ben definiti all'interno di un arco narrativo più grande e che il conflitto che le definisce fondamentalmente si risolve all'interno del loro stesso arco narrativo riprendiamo l'esempio dello scorso video il gruppo di avventurieri deve mettere in salvo gli abitanti del villaggio dopo l'attacco delle truppe del malvagio barone questa è la loro linea narrativa orizzontale che contiene il conflitto della loro saga cioè salvare gli abitanti del villaggio per mettere in salvo i paesani però dovranno prima sconfiggere le truppe che attaccano il villaggio poi attraversare l'antica foresta dove altri profughi si sono dati al banditismo e infine convincere il re dei nani a ospitare i profughi nella sua città di montagna fino alla fine della guerra ognuno di questi tre eventi cioè sconfiggere i soldati malvagi superare la foresta dei banditi e convincere il re dei nani sarà un evento separato e fondamentalmente autoconclusivo quindi saranno le tre linee narrative verticali all'interno della saga ognuno di questi tre archi narrativi sarà rappresentato all'interno della campagna da una quest o magari un gruppo di quest tematicamente collegate in cui i personaggi dovranno combattere contro dei png indagare su dei misteri esplorare la zona fare loro attività tipiche di avventurieri all'interno di una campagna cosa riguarderanno le quest nel dettaglio ovviamente dipende dal tipo di gioco dal tipo di regolamento che state utilizzando ognuna di queste tre in quanto comunque linea narrativa è definita da un suo conflitto centrale che sarà sconfiggere i soldati che sarà superare i banditi che sarà convincere il re che i giocatori dovranno risolvere per portare a termine l'arco narrativo questi conflitti però una volta risolti e verranno risolti fondamentalmente subito dopo essere stati incontrati non si trascineranno per il resto della campagna potenzialmente dato che questi conflitti sono autoconclusivi il master o comunque il tavolo potrebbe decidere di tagliare completamente quel blocco di quest senza che la linea narrativa orizzontale diciamo la storia in generale ne venga compromessa potenzialmente il master potrebbe semplicemente dire i soldati attaccano cosa fate portiamo i profughi dal re a il re dei nani accetta i profughi e adesso cosa fate la storia nella sua lunghezza sarebbe rimasta uguale non ci sarebbero elementi delle linee narrativa orizzontali che verrebbero tagliati tagliando questi archi narrativi minori però in realtà questi archi narrativi non ci sono mai stati non sono mai stati giocati questa è proprio la principale differenza tra gli archi narrativi orizzontali e quelli verticali immaginate gli archi narrativi verticali come i singoli episodi di una serie di telefilm anche se voi vi perdete un episodio e la storia di quell'episodio il senso generale della trama della stagione del telefilm non ne viene particolarmente influenzato questo ovviamente non vuol dire che le linee narrative verticali non debbano centrare nulla con quelle orizzontali anzi le linee narrative verticali dovrebbero essere utilizzate per rafforzare i concetti importanti per quella che è la storia vera propria all'interno della linea narrativa orizzontale combattere contro le truppe del malvagio barone fa vedere ai giocatori quanto quegli avversari siano pericolosi e quanto non debbano sottovalutarli che nel bosco ci sia gente in fuga alla guerra che si è data al brigantaggio fa vedere quanto la situazione disperata e quanto sia fragile la società umana che nel caso le strutture vengono a mancare ricade in forme di barbarismo dover andare a parlare con i nani per gestire la situazione dei profughi può essere un momento di critica o comunque di analisi sociale anche riguardo delle situazioni attuali in questo caso comunque potrebbe anche essere semplicemente un modo per far vedere come funziona la politica estera all'interno del mondo fittizio di gioco ognuno di questi eventi però sarà risolto nell'immediato dai personaggi giocanti e avrà degli strascichi molto limitati su quella che è la storia in generale anche in questo caso non vuol dire che non debba avere alcun tipo di seguito nella storia solo che i suoi elementi cardine probabilmente non saranno così importanti il master comunque potrebbe prendere alcuni elementi della storia orizzontale e integrarli in quelle verticali per renderle più interessanti oppure prendere degli elementi delle linee verticali per poi andare a influenzare quelli delle linee orizzontali magari i banditi nel bosco non sono un movimento spontaneo sono stati degli agenti del malvagio barone a fomentarli a organizzarli magari all'interno del party degli avventurieri c'è un giocatore che ha un personaggio nano che viene dalla città dei nani magari anche proprio parente dello stesso re dei nani e quindi è per quello che il party va a parlare proprio con loro i giocatori stessi potrebbero decidere di integrare qualcosa accaduto in un arco verticale all'interno del loro arco orizzontale dell'arco orizzontale del loro personaggio il personaggio che odiava i nani dopo che i nani li hanno aiutati riconsidererà la sua posizione il giocatore che ha fatto un gesto eroico combattendo contro i banditi o combattendo contro le truppe del malvagio barone racconterà per anni di quanto lui è stato eroico quel giorno il master potrebbe fomentare questa cosa in che tutti gli abitanti del villaggio che l'hanno visto raccontino in giro di quanto è bravo a essere uno spadaccino quel personaggio che ha sconfitto tre soldati malvagi in un singolo turno come abbiamo detto per le linee narrative orizzontali anche per quelle verticali c'è la possibilità che nascano dalla narrazione spontanea o da un'esplicita richiesta da parte di uno solo dei membri del tavolo i giocatori rimangono particolarmente affascinati dalla descrizione della statua di un eroe nano che avete fatto nella piazza centrale della città dei nani e decidono che vogliono indagare e scoprire tutto quello che è possibile sapere su quel particolare eroe nano e voi come master ovviamente dovreste cercare di venire incontro a loro curiosità magari creando una quest proprio sul fatto che loro trovino informazioni su quell'eroe o e succede molto più spesso di quello che potreste immaginarvi voi avete inserito un png che ha uno spocopo tecnico all'interno della quest e i giocatori decidono che quel png gli sta particolarmente simpatico e vogliono attivamente immischiarsi nella sua vita portando un esempio personale io mi ricordo in una campagna molto lunga in cui un certo punto arrivò questo png che era caratterizzato dal fatto di essere un forte bevitore ora il fatto che lui fosse un alcolista non c'entrava assolutamente niente con la campagna neanche con la quest in cui i giocatori erano impegnati in quel momento ma dato che quel personaggio risultò incredibilmente simpatico i giocatori a un certo punto decidero che volevano risolvere i suoi problemi con l'alcol poi nella pratica la cura fu peggiore della malattia ma questa è un'altra storia come master probabilmente le linee narrative verticali vi tornano molto più utili di quelle orizzontali per inserire questo tipo di elementi all'interno della vostra campagna dato che sono autoconclusive e prevedono che il conflitto centrale venga risolto in maniera immediata dai giocatori si trascinano molto meno per quanto riguarda la linea narrativa della campagna e quindi sono anche molto più facili da inserire anche senza che ci sia una particolare preparazione dietro perché normalmente gli eventi di una linea narrativa verticale influenzano così poco la linea narrativa orizzontale che non c'è bisogno di andare a cambiare elementi successivamente per fare delle retcon alla storia in modo che non si contraddica da sola diciamo che per questo video è tutto e finiamo anche la mini trattazione di quelle che sono le linee narrative in modo da avere almeno una serie di termini tecnici quando poi andremo a definire poi gli archi narrativi e tutto quello che ne consegue in realtà mentre stavo finendo di scrivere questi video mi sono reso conto che ho parlato sia in questo che nel precedente di conflitto ma non ho mai fatto un video in merito quindi molto probabilmente tra un paio di settimane probabilmente molto di più visto i miei standard di reazione agli eventi farò uscire un video proprio su che cos'è il conflitto all'interno della narrazione che è un altro elemento fondante della narrativa almeno della narrativa occidentale anche su quello ci sarà poi da discutere ovviamente nel prossimo video della rubrica dello scrivere una quest andremo a vedere quali sono gli archi narrativi verticali all'interno della nostra quest quindi cominciate già a pensare a quali sono le vostre proposte e magari andatevi a rivedere il vecchio video per sapere cosa è successo finora come sempre se avete domande dubbio perplessità scriveteli nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate il tasto dalla campanella se non volete perdere i prossimi video io sono il master kai noi ci vediamo nel prossimo video